Potrebbe diventare il secondo crimine contro la rivera di Pescara dopo la caserma della Guardia di Finanza e forse potrebbe anche non essere l'ultimo, almeno secondo Maurizio Acerbo, il quale teme che i tre edifici di 21 metri la cui realizzazione fu messa alla porta dal Tar possano in qualche modo rientrare dalla finestra. Grazie ad una norma, dice Maurizio Acerbo, approvata da chi oggi sembra più berlusconiano di Berlusconi. Era stato bloccato dal Tar, dal Tribunale Amministrativo Regionale, il progetto che era stato autorizzato dalla Giunta Mascia di far costruire tre edifici lungo la riviera di Porta Nuova attaccati all'area ex Cofa. In Parlamento lo scorso 23 dicembre è stata approvata dentro la finanziaria, che adesso si chiama legge di stabilità, un comma che sostanzialmente viene in soccorso di questi privati e che sostanzialmente dice che il decreto sviluppo di Berlusconi e quindi la legge regionale applicativa voluta sempre dal centro-destra si applicano anche laddove vi sono piani particolareggiati, cioè laddove il Comune aveva deciso di fare una pianificazione più specifica considerando le aree strategiche, sappiamo quanto per la città siano strategiche, l'area ex Cofa e quella della riviera. Tutto questo è stato fatto a dicembre, però si sono guardati dal comunicarcelo e voglio registrare il fatto che questa nostra, ma che appare scritta apposta per il caso pescarese, che relatrice della legge di stabilità al Senato, era la senatrice Federica Chievaroli del NCD e che tra l'altro alla Regione, che era anche consigliere regionale, ha sostenuto quella legge che appunto andava in quella direzione lì e che noi insieme allora anche al PD avevamo contrastato.